Luglio, mese del preziosissimo sangue di Gesù 29 luglio, il segreto per compiere le tue opere nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen Se tu potessi compiere un viaggio o un'azione benefica col solo pensiero ti insegno il segreto per compiere così le tue opere di zelo, di apostolato e di carità Basta che tu abbia l'intenzione di applicare alle anime il mio divin sangue nella intenzione e nell'applicazione ci sarà l'efficacia Attingi quanto sangue vuoi offrilo a chi vuoi e con quella misura con cui concepirai il desiderio Questo apostolato segreto se è accompagnato dalla fede e sostenuto dall'amore è il più fruttuoso, Amen L'adorare il prezzo inestimabile della nostra redenzione è l'oggetto il più tenero che possiamo noi proporci Da questo ne sono a noi derivati i tesori della sapienza e della santità in virtù del divin sangue la gloria santa del cielo, Amen O Gesù, per i meriti del tuo prezioso sangue fa che io non mi perda in eterno, Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli, Amen Meditazione Purtroppo il sangue di Gesù non è per tutti di salvezza per molti e di condanna Questo fanciullo, disse il santo vecchio Simeone è venuto al mondo per la redenzione di molti e per la rovina di altri Dipende forse da Dio? Se proprio quel sangue che ha versato per la nostra redenzione sarà la rovina di tante anime? No Dipende unicamente dalla nostra volontà Per chi vuole sarà di salvezza, dice Sant'Agostino Per chi non vuole sarà di condanna Giuda gettò i trenta denari gridando Ho tradito il sangue innocente e si impiccò Pietro rinnegò il maestro Pianse amaramente e fu perdonato Tutti i giorni si leva una voce al cielo che grida Vendica, oh Signore il sangue dei tuoi giusti che è stato sparso Se la voce del sangue dei martiri è così formidabile cosa sarà la voce del sangue di Cristo? Come sarà terribile quella voce nel giorno del giudizio? I chiodi e le piaghe di Cristo grideranno condanna per chi ha disprezzato quel sangue Dio, dice il profeta Ezechiele chiederà conto di quel sangue è vero che Gesù è pieno di misericordia e di bontà ma se non condannasse chi conculca il suo sangue sarebbe ingiusto Se per quel sangue milioni di anime hanno sofferto deve essere la loro gloria Se invece tanti peccatori lo hanno profanato e non se ne sono pentiti deve essere la loro condanna Come la misericordia dice lo Spirito Santo così l'ira divina discende veloce sul nostro capo e per noi il sangue di Gesù sarà di salute o di condanna O Gesù fa che le Tue piaghe siano il nostro rifugio in vita e in morte e il Tuo sangue la nostra salvezza perché noi non solo confidiamo in Te ma Ti amiamo Amen Fioretto pensiamo spesso alle pene dell'inferno e così non offenderemo Dio Giaculatori O Gesù per i meriti del Tuo prezioso sangue fa che io non mi perda in eterno Amen Consacrazione al preziosissimo sangue di Gesù Signore Gesù che ci ami e ci hai liberato dai nostri peccati con il Tuo sangue Ti adoro Ti benedico e mi consacro a Te con viva fede Con l'aiuto dello Spirito mi impegno a dare di tutta la mia esistenza animata dalla memoria del Tuo sangue un servizio fedele alla volontà di Dio per l'avvento del Tuo regno per il Tuo sangue versato in remissione dei peccati purificami da ogni colpa e rinnovami nel cuore perché risplenda sempre più in me l'immagine dell'uomo nuovo creato secondo giustizia e santità per il Tuo sangue segno di riconciliazione con Dio tra gli uomini rendimi docile strumento di comunione fraterna per la potenza del Tuo sangue prova suprema della Tua carità dammi il coraggio di amare Te e i fratelli fino al dono della vita O Gesù Redentore aiutami a portare quotidianamente la croce perché la mia goccia di sangue unita al Tuo giovi alla redenzione del mondo O sangue divino che vivifichi con la Tua grazia il corpo mistico rendimi pietra viva della Chiesa dammi la passione dell'unità tra i cristiani infondi nel mio cuore grande zelo per la salvezza del mio prossimo suscita nella Chiesa numerose vocazioni missionarie perché a tutti i popoli sia dato di conoscere amare e di servire il vero Dio O sangue preziosissimo segno di liberazione e di vita nuova concedimi di perseverare nella fede nella speranza e nella carità perché da Te segnato possa uscire da questo esilio ed entrare nella terra promessa del paradiso per cantarti in eterno la mia lode con tutti i redenti Amen Che Dio ci benedica faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti